A dare la parola a Luciano, grazie. Anch'io cercherò di restare nel tempo che mi è stato assegnato perché anch'io sono interessato agli eventi immediatamente successivi ai miei. Premesso che non faccio mai premesse, una premessa anche questa, va bene, il tema inizia in modo un po' tecnico ma poi va più liscio, però a mio avviso è importante spiegare che cosa si intende per ciclo planetario, che cos'è l'ICP, quindi io spiegherò magari un po' rapidamente che cosa si intende, che utilità hanno queste due tecniche, come vanno utilizzate a livello interpretativo, che utilità possono avere per rivedere la storia più o meno recente dell'umanità alla luce di queste tecniche e conto di arrivare alla fine di questa mia presentazione con un'analisi della posizione dei principali pianeti esterni in questi anni, in questo momento, con uno sprazzo, un auguro di ottimismo per gli anni successivi. Io conosco quest'autore, Francesco André Barbò, perché ho avuto modo di tradurre parecchi suoi articoli, lui ne è venuto in italiano, ovviamente da francese in italiano, lui ne è venuto a conoscenza, ho dovuto mangiarmi un paio di libri e quindi per questo posso dire che questo è un argomento che conosco abbastanza bene, ho approfondito abbastanza bene. Cosa si intende per ciclo planetario? Anche questo che vedete qui nell'illustrazione è un ciclo planetario, è il ciclo lunisolare o soli lunare, ciclo soli luna. Se noi consideriamo i vari corpi celesti che utilizziamo in astrologia, dobbiamo prenderli a coppia. E troveremo sempre che ci sarà un corpo celeste più veloce e uno più lento. Si parla di molti apparenti visti dal punto di vista geocentrico. Il corpo celeste più veloce, in questo caso, è la luna e convenzionalmente il ciclo inizia con la condizione. La condizione è solo a luna, qui la troviamo sulla sinistra, che risponde alla fase di numero 1. Poi il corpo celeste più veloce si allontana da quello più lento, nel senso che aumenta gradualmente la sua distanza angolare. Quindi dopo qualche giorno arriva a circa 60 gradi e abbiamo il primo sestile. Poi arriva a una distanza di 45 gradi e abbiamo il primo quarto. Poi arriva a 120 gradi con il primo trigono. E a metà ciclo c'erano le posizioni sole e luna con la luna. Questa prima fase andrebbe a modo definito in diversi modi, tutti molto promettenti, tipo fase ascendente, fase espansiva, fase di evoluzione. Scusate, ma non si sente te, ma si sente di là. Ok, quindi la fase di crescimento inizia con il secondo trigono di seconda quadratura e il secondo e l'ultimo sestile, per poi ricongiungersi. Poi vedremo nella fase successiva come estrapolare questa cosa e applicarla a qualsiasi accoppiata planetaria. Che significato ha questa cosa? Che utilità ha? Innanzitutto ciascuno accoppiato a planetaria, ciascun ciclo planetario ha una durata diversamente, come voi vediamo. Inoltre, noi dobbiamo cercare di capirlo, affidandoci ovviamente alla tradizione astrologica e anche agli studi, in questo caso di Barbò, a ciascuna accoppiata planetaria noi dobbiamo assegnare un preciso ambito disimplicato. Per quello non ci serve a niente. Lo vedremo nelle slide successive. La teoria, direi intrigante, ma devo essere sincero, non necessariamente affidabilissima al 100%, perché io sono fatto a modo mio, e quindi ho voluto ultimidomettare la roba, questa cosa qua, stravero, e quindi ho fatto tutto un lavoro in rettospettiva, che oggi vi accenderò un po' rapidamente, chi è interessato può trovare dei miei video su YouTube, in quali vi soffermo, anche con maggiore dubizia di dettaglio. Mandela Barbò, a mio avviso, unisce in un mondo molto, anche geniale, come era una sua caratteristica, due concetti filosofici. Uno è quello dei cicli, dei corsi e ricorsi storici di Giambattista Vico, secondo il quale la storia non è lineare. Io siamo abituati all'idea di una progressione lineare. La produzione deve sempre aumentare, l'economia deve sempre migliorare. No, Giambattista Vico, non ricordo esattamente il quale secolo, ma è così insomma, è normale che il cristiano dei cicli. E quindi ogni tanto si ritorna indietro, però per riprendere un po'. In più, Barbò non lo dice a chiarete tre, però mi avviso lì per riprendere molto da Heger. Quando parla di un po' 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 di un po'.